Mauro Tarchi, dal 2006 finalmente un progetto che ha visto la precedente amministrazione lavorare effettivamente è stato realizzato. Si apre oggi il Museo delle Terre Nove? Sì, è una soddisfazione, una idea che nasceva prima di me, che ha preso consistenza ed opportunità realizzativa durante gli anni del 2006-2007 e oggi trova il suo completamento in un accordo finanziario con la Regione e con il Ministero dei Beni Culturali e gli Uffizi di Firenze, credo rappresenta una bella opportunità. Restituire Palazzo D'Arnolfo alla felicità dei suoi cittadini e al mondo della cultura e della conoscenza è uno dei fatti rilevanti, è uno dei tre fatti che possono rendere e riportare San Giovanni a un buon livello culturale insieme alla Casa del Faccio e al Teatro. Erano i punti fondanti, uno si realizza, si realizza nello specifico delle terre nuove e delle città murate e credo sia una prima esperienza sicuramente assoluta in Toscana ma che ha la capacità di parlare all'interiore. Quindi è una bella cosa per San Giovanni, per i San Giovannesi, una bella cosa per la storia e lo studio di questa città e della sua architettura.